Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. Grazie a tutti.